Buongiorno, oggi siamo a Riozzo, in una frazione del comune di Cerralambro, vicinissima alla cittadina di Meleniano. Siamo in una posizione molto strategica, vicina all'autostrada, a tutti i servizi, abbiamo il passante ferroviario a due passi a piedi. Il mobile che vi proponiamo oggi è una villa laterale costruita a metà anni 80. Una villa disposta su tre livelli con un bellissimo giardino, uno spazio esterno sia pavimentato e sia piantumato in erba. Andiamo a vedere l'interno. Continuando la visita iniziata dal collega Mariano, ci accingiamo all'abitazione. Grazie a questo ampio patio da soffrire nelle splendide giornate che ci accompagna all'ingresso della villa. Eccoci all'ingresso della villa, qui abbiamo un ampio soggiorno doppio con doppia esposizione. Dal soggiorno, tramite questo comodo disimpegno, ci accompagniamo alla cucina abitabile, molto spaziosa, utilizzabile in entrambi i lati e arredata con questa cucina ad isola molto comoda per ospitare amici, parenti. Tramite questa comoda a scala interna arriviamo alla zona notte, composto da tre camere e un bagno. Eccoci nel comodo bagno, provvisto sia di vasca sia di doccia, finestrato con la faccia sulla zona verde. Prima cameretta, molto ampia, come potete notare abbiamo due grandi armadiature sia sulla destra che sulla sinistra, quindi fa notare gli ampi spazi. Seconda cameretta, anch'essa molto ampia, come potete notare tra anche qui le armadiature ad estra sinistra e questo lettino singolo dove andrebbe anche comodamente un letto a una piazza e mezza. Ma questa camera è anche compresa di un bel balcone. Per concludere la zona notte, qui troviamo un'ampia camera matrimoniale con balcone. Eccoci nel piano seminterrato dove abbiamo questo ampio locale cantina adibita a taverna con un bellissimo caminetto con dettagli in muratura, accesso al box e per concludere abbiamo questo comodo locale lavanderia. Il mio collega Mariano ricapitolerà tutto ciò che abbiamo visionato. Abbiamo terminato la visita dell'immobile, come vi dicevo abbiamo visto questa bellissima villa laterale, una posizione strategica, costruzione alle metà, anni 80, disposta su tre livelli. Come avete notato nel video gli ambienti sono molto comodi, sono spaziosi sia la parte interna sia la parte esterna dove abbiamo questa bellissima area esterna. Gli spazi sono importanti, facili da arredare. L'immobile lo troverete in pubblicità sul nostro sito www.immobiliarefreedom.it presso le nostre sedi. San Giuliano Milanese via Massimo Corchio 8, San Donato Milanese via Morambi 23, Milano via Molino delle Armi numero 5. Vi aspettiamo di persona dove un collaboratore dell'immobiliare Freedom vi mostrerà di persona l'immobile. Immobiliare Freedom, liberi di scegliere i migliori. Immobiliare Freedom. Genova, lo título di respondssi